ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco l'enoxiol a cosa serve l'enoxiola un parafarmaco appartenente alla categoria degli cosmetici di uso generale è commercializzato in italia dall'azienda merts farma italia srl sede legale ed amministrativa informazioni commerciali titolare merts farma italia srl sede legale ed amministrativa concessionario merts farma italia srl sede legale ed amministrativa categoria di appartenenza cosmetici di uso generale confezioni l'enoxiol fluido lenitivo 200 ml flac indicazioni emulsione ricca e rinfrescante formulata per aree estese del corpo e per la zona anogenitale ad elevato contenuto di esteri ozonizzati del glicerolo ha stata appositamente studiata per trattare una cute indebolita da condizioni di particolare stress che generalmente provocano l'insorgenza delle sensazioni irritative cutanee per pelli arrossate irritate e screpolate esercita un immediato e persistente effetto lenitivo particolarmente indicato in geriatria e in pediatria quando si renda necessario un trattamento lenitivo e protettivo descrizione e caratteristiche apportando acidi grassi essenziali ripristina la normale funzionalità della barriera cutanea ed esercita un immediato e persistente effetto lenitivo prodotto dermatologicamente testato contiene esteri ozonizzati di glicerolo al 9 per cento componenti e ingredienti acqua triticum vulgare glicerine o che si di z corn oil o che si di z e selnut oil stearet 2 profumo di meticone stearet 21 tocoferil acetate imidazolidini lurea metilparaben di sodium fosfate propilparaben di sodium ebta sodium idroxide contiene esteri ozonizzati di glicerolo al 9 per cento fonte codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato